Ciao bambini e bambine! Oggi per allegrare le nostre giornate passate in casa faremo una cosa molto semplice ma divertente, il sale colorato. Cosa ci serve? Del sale fino, dei pennarelli e un contenitore di vetro, di plastica di qualsiasi dimensione. Come fare? Allora, si procede colorando il sale con i pennarelli. Si colora proprio muovendosi come se volessimo colorare un foglio. Ci vuole un po' di pazienza ma vedrete che poi il sale si colorerà. Coloriamo il sale di diversi colori. Una volta finito di colorare il sale, prendete il vasetto che avete scelto come contenitore per il vostro sale colorato, un cucchiaio, se avete bisogno fatevi aiutare da un adulto per non spargere il sale ovunque e riempite con un po' di sale di ogni colore. Potete scegliere quanto sale mettere per ogni colore. Vedrete che si formeranno degli strati di diverso colore. Grazie. Grazie. Adesso una volta finito di riempire con i diversi strati, chiudete il tappo ed ecco qui il vostro barattolo di sale colorato. Alla prossima!